Milano non esce proprio benissimo, il tuffo di Federici a salvare Marber, Grozer che la manda di là, free ball per Milano, il murone! Grozer va a dire qualcosa a Federici, perché qualche colpo fa Federici ha fatto un numero pazzesco. Bravo sulla testa di Porro, Lohzer il muro, poi c'è la difesa di Federici, la partita mi schiva! Tribuna deve prendere Ishikawa, il palleggio di Patry per mandarla di là, non passa il primo attacco di Monza, allora trova a imbuccare, ancora Marra! E Badipur va da Patry in pallonetto, Federici la tiene su in qualche maniera, Grozer cadendo all'indietro, c'è la difesa! Per Badipur, sul profondo c'è Federici, la risposta di Marra a tutto braccio, il muro per la difesa di Pesaresi, Patry per Badipur, Federici che cosa ha fatto? Ma c'è un fischio! Sarese in questo momento, in questa fase, Federici in difesa!